presentazione presentazione del car survival kit è molto importante sono piccole cose che bisogna avere per forza attenzione cassettina di legno e qui abbiamo il nostro bel triangolo abbiamo una cintura del motore just in case si rompa l'altra abbiamo dei guanti cambio gomma no abbiamo una chiave queste qua sono molto pratiche queste qua sono più pratiche che non questa che non questa qua lunga così queste qua sono molto più pratiche queste qua croce poi abbiamo corde diverse corde abbiamo gli strap che anche questi sono importanti io ne vanno no abbiamo questi strap come si chiamano fibbie abbiamo dei sono lo scotch molto importante tappi extra siccome ne ho già persi due meglio che me ne tenga un paio una pompa ad aria a mano strati corde 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 elastiche corde normali serie di fusibili no serie di fusibili e questa è la prima cassetta poi abbiamo un fornello a gas abbiamo un sacchetto con sacchetti di plastica sacchetti di plastica you never know servono sempre no e questi li infeliamo qua abbiamo qui una serie di taniche come si chiama acqua per il radiatore acqua per il per il tergivetro olio che mi è avanzato del cambio dei differenziali anti ruggine silicone estintore v di forti altre bombole anti ruggine un olio che mi è avanzato zaino tattico preparato proprio con alcune cose dentro una sorta di piccolo survival adesso vi farò vedere lo so che morite dalla curiosità qui abbiamo un kit emergenza le come si chiamano i giubbottini rinfrangenti un altro kit emergenza ombrelli due profumi e questo è il beccuccio da inserire dentro la tanica della benzina qui abbiamo una grigliettina con il suo bel guantino no non brucia questa qua però se devi prendere per esempio altre cose in mano è meglio sempre tenerne una a portata di mano lì abbiamo un tarp questo tarp è di tre metri per quattro se non sbaglio questo tarp viene attaccato con questi no ne ho presi tre questi qua sono per il vetro però noi al vetro non glielo diciamo li attacchiamo alla sul tettuccio della waz no questi sono a ventosa tra l'altro 10 kg nella qui gli attacchiamo delle cordicine che ho già preparato e insieme a dei gancetti gli attacchiamo il nostro tarp inutile mettere una di quelle verande che mi creano solo peso per niente con questi tre no tre di questi tre di questi e mi coprono il necessario per appunto mettere il tarp sotto il tarp tavolino sedia ombrellone tenda quello che vuoi come c'era la borsa con le borse di plastica qui abbiamo una borsa con le borse di tela no quando vai a fare la spesa almeno sai hai sempre come dire anziché comprare le borse vai dentro direttamente con una di questa e la riempi capito per continuare il nostro tour delle degli attrezzi che cosa abbiamo qua abbiamo queste che sono molto importanti abbiamo un compressore molto importante abbiamo una borsa con degli stracci abbiamo i cavi per la batteria abbiamo queste plafoniere che queste qua sono quelle delle ruote no le tengo poi qui abbiamo gli altri mozzi questi qua dentro sono gli altri mozzi della macchina inutile che li tengo in casa me li porto con me il cric e un'altra corda poi abbiamo la nostra tannica della benzina è sempre importante tenersi una tannica della benzina dietro portarsela dietro una tannica non si sa mai ti capita che rimani senza benzina sei imbrata e poi due tanniche dell'acqua che ovviamente adesso le teniamo vuote perché fa troppo freddo due tanniche dell'acqua l'acqua sempre molto importante una mano e poi abbiamo il nostro zainetto di sopravvivenza che cosa abbiamo dentro lo zainetto sopravvivenza vediamo qui abbiamo il necessario per accendere il fuoco ed è praticamente sono quelle tavolette quelle zollette no le zollette per accendere il fuoco con candele accendini e fiammiferi sì se devo accendere il fuoco sono a posto mentre qui invece nella tischina più piccola abbiamo questa è la borsetta surprise sembra che come kit di sopravvivenza sono a posto visione del coltello è un coltello che va bene anche per tagliare la cintura quindi inutile che io me lo tengo qua dentro perché se io sono dentro con la cintura legata cosa faccio non potrò mai uscire e andare a prendere il coltello legato dalla cintura per togliere la cintura questo qui è per spaccare il vetro questa qui magari me la tengo davanti ok quello lì lo tengo davanti altra piccola visione il fischietto fantastico sai mai che ti trovi dentro al bosco non sai come fare fischi qualcuno arriva il metro per misurare misura e la lampadina questa qua questa qua almeno se non hai un usb che ti funziona quello quell'altro ce n'hai una con la dinamo questa qui è con la pila molto forte una chiavetta multiuso scomodissima però magari funziona il tagliaunghie you never know il balsamo di tigre che se ti senti male almeno respiri no ti rilibera il naso è un coltellino svizzero multiuso con anche lo stuzzicadenti capito sono cose importanti queste qua ma vediamo la parte più bello scompartimento centrale abbiamo una borsa con dentro un paio di pantaloni ovviamente rigorosamente tattici militari no eccoli qua lì dentro poi perché queste sono sempre molto importanti da tenere abbiamo una maglietta di ricambio e un paio di calze perché guarda che non sai mai e ti trovi da qualche parte no lo zainetto è molto piccolo però se lo zaino più grande e più carichi quindi è meglio tenerne uno piccolo riempirlo fino al minimo che può al massimo che puoi mettendoci proprio il minimo indispensabile e sei a posto quindi queste multitasche che ci sono all'interno servono un po a poco perché è già pieno e le multitasche non servono no ma vediamo a questa parte qua la parte prima praticamente il primo piano questo è bellissimo questo qua abbiamo la nostra pentolina che adesso vi farò vedere fantastica la pentolina pentolina da 12 centimetri col suo bel copertetto la sua bella pentolina no ecco perché mi serviva quel guanto la sua bella pentolina se devi fare due uova fritte un po di bacon capito e questo qua il pentolino per fare per far bollire l'acqua il come si chiama i cereali no tipo lenti insomma fai bollire tu basta che fai bollire e poi va bene poi che cosa abbiamo attenzione allora questo qui il pentolino guarda che bello no coperchietto qua si chiude e guarda che bello e c'è il tuo bel della zebra fantastico piccolino e proseguendo nel nostro bello zainetto survival kit che cosa abbiamo un tarp anche questo deve essere questo deve essere anche quattro metri per non me lo ricordo più con i suoi bei picchetti un poncio è molto importante avere un poncio un poncio se piove no devi cambiare la ruota devi uscire dalla macchina insomma ha il poncio portata di mano e la marca vero come zainetto sopravvivenza possa servire abbiamo il tarp dentro lo zainetto sai mai che tu per esempio esci dalla macchina c'è un problema caspita sei in mezzo al chissà dove e cammina e cammina non trovi nulla si fa notte ti devi coprire almeno c'è il tarp capito e riesce a coprirti oppure se non vai da nessuna parte rimani dentro alla macchina e il tarp non lo usi e se vai invece in escursione hai già tutto quanto dentro capito sopravvivenza non si sa mai un pantalone di ricambio dentro al sacchetto di nylon così non si bagna un paio di calze una maglietta e sei a posto la nostra pentolina il coltello che taglia la cintura il lapri bottiglia è importante il taglia unghie no anziché mangiarti le unghie dallo stress ai taglia unghie e sei a posto la chiavetta quella lì che se devi svitare qualche cosa ce l'hai il balsamo di tigre e il kit sopravvivenza e il kit della sopravvivenza non ci sta dentro lo zainetto quello lo lasci in macchina e ma se ti fai male quando sei in giro col tuo bello zainetto tattico e pensa un cazzo tuoi cerca di non farti male e ma non va bene così e allora o compri uno zaino più grande e gli metti anche dentro questo che comunque è già anche bello grande questo qua c'è già una bella bistecca è già un bel pacco questo qua cioè guarda è grande come uno zainetto no ma dai vedrò di non farmi male o comunque me lo prendo e me lo tengo in mano che devo fare bene mi sembra che abbiamo finito il nostro viaggio tattico in quello che serve da tenere in auto ah beh non avevo ancora finito tolto questo questi devo ancora organizzarli questi qua questo lo togliamo lo mettiamo qua da parte qui che cosa abbiamo uno straccio che questo qua lo mettiamo qua per adesso non ci serve questa è la spugnetta che ho usato per pulire la mascherina qui che cosa abbiamo abbiamo innanzitutto abbiamo un punteruolo che serve per togliere il ghiaccio come ho fatto stamattina con questa zona qua no lì c'è tutto il ghiaccio qua per terra non vi dico vabbè ok praticamente tutto il ghiaccio che si era formato sotto al fanale della nebbia qua abbiamo quelle cordicine che vi dicevo poco fa da mettere nel nei clip per mettere il tarp qui abbiamo un cutter questo per l'emergenza se per caso si rompe l'altro questi sono da attaccare lo zainetto questa è una guarnizione della tannica questa è un'altra bussola che siccome ce l'avevo trovata dentro un uovo un pacchetto di patatine che non me ne ricordo l'attaccherò nello zainetto una forbice che non si sa mai la mitica canna da pesca chissà un giorno che la userò il termometro e voi non avere un termometro tra proposito quanti gradi ci sono siamo a meno 10 meno 10 meno 10 non so però comunque ho le dita congelate ok un pennello una chiave da 17 un seghetto sembra meglio avere un seghettino sai mai che magari ti cade un albero in mezzo alla strada e non lo puoi sorpassare con la guazza prendi il tuo bel seghettino no e ti metti lì e lo seghi poi abbiamo un coltello coltello che veramente non serve a niente abbiamo un metro un pochettino più grande per misurare quanto ti ci va per arrivare a casa questo non mi non lo so ancora il cacciavite un paio di guanti extra sempre per no forever e le punte per il cacciavite ho tutto sono a posto questa roba qua adesso devo trovare un posto dove inserirla questo qui è la parte più bella guarda guarda che bello mi sembra che siamo a meno 10 gradi sì 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 perché stamattina era meno 18 adesso sono le due e mezza del pomeriggio circa le tre la temperatura si è alzata e quindi siamo a meno 10 forte siamo a posto ok questo qui lo attaccherò davanti nella macchina perché così almeno so quanti gradi ho quando entro ho tutto ho tutto